Quest'anno ritornano ancora una volta i muri raccontano, dal 24 al 31 ci saranno due nuovi pittori, Amedeo Marchetti e Valbusa Damiano di Sirmione e lasceranno anche quest'anno due nuovi dipinti, due nuovi murali dedicati comunque sempre al tema originale, i giochi di una volta. Naturalmente il programma non finisce qua, ci saranno anche aspetti musicali e ci sarà anche un aspetto culturale con la presentazione di un libro. Quest'anno parecchie iniziative a Tossicia sono ripartite, anzi quasi tutte sono ripartite, a Zinane è una di quelle di maggior risalto culturale, è la 22esima edizione, quindi ogni anno la Proloco presenta questa manifestazione, le pareti sono quasi tutte occupate, e quindi è una cosa veramente bella, è bella anche vederla di sera perché è parzialmente illuminata, noi puntiamo molto su Annunziatina Scipione per quello che ha fatto e per quello che sicuramente ci darà Tossicia. Successivamente riapriremo anche il Museo delle Accreti e Tradizioni dove sono 22 opere che sono state donate da Annunziatina Scipione e quindi diciamo per noi è veramente come cultura è un riferimento importante, per l'Abruzzo e credo che ultimamente faremo una mostra anche in Argentina, quindi ormai è di dominio mondiale.